Questo protocollo che certamente va a vantaggio delle banche, nel senso che l'oggetto principale è la banca, ma lo si è detto poc'anzi, l'oggetto principale è anche il contenuto delle banche, compresi i cittadini che vanno a svolgere delle operazioni bancarie e credo che anche in questo si debbano trovare segnali di conforto nella capacità che si sta sviluppando nel nostro territorio, che si è già sviluppato, di far sintesi tra le varie istituzioni che comunque hanno un rilievo sotto il piano della sicurezza. Mi riferisco oggi ad Abbi e alla Banca d'Italia e alle banche con la quale abbiamo appena sottoscritto un protocollo, ma potrei riferirmi anche ad altre istituzioni, comuni, regioni, provincia, con la quale quotidianamente affrontiamo sotto diverse angolature delle problematiche per la soluzione delle quali la sicurezza va guardata e affrontata sotto punti di vista differenti che non sono soltanto quelli delle forze di polizia, ma anche di chi ha altre responsabilità istituzionali sulle spalle.